Scusate Ok questa è quella parte 4 Del video Scusate ma vabbè Si hai già capito Si sono successe cose Cioè è crashato Mi sono morso da solo la bocca Non è finita la memoria Basta dirlo ricchi Se lo dici dopo Dopo palma Va bene Allora lui adesso sta cercando ancora il furgone Vediamo se si va a incassare a qualche parte Oppure lo trova Lui ho detto soltanto che è dove di treni Anche se lui non sa Dove è la mappa Vediamo se lo sa Ok questo è il biogas plant E non è per niente qua Lo so Allora Andavo a girare Ok Siamo già a un minuto No richiede un giro a sinistra Forse Boh Allora qua ci sono delle rotaglie Mi sa che si qua è arrivato Si 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 qua è arrivato Si qua è arrivato Ok Quanto sono veri Adesso te lo dico Perché Io ti dico Siccome la legge dei labirinti A girare a destra Io giro sulla sinistra Va bene Comunque devi seguire le rotaglie Perché vicino alle rotaglie Si quanti Quanti errori ho fatto In questo momento Madonna Ma sono andate di 100.000 all'ora Ma questo qua non è il capo nostro Ci danno gli 80 all'ora No Non è il capo nostro Sono i 70 Va bene Sì Per me Si è rientrato in città Si è rientrato in città E allora Per me è sinistra E allora Ti ho detto che dove i treni E dove sono i treni adesso I treni sono dietro di te Dove di prima Eh Devo ritornare da Ciro di là Mi tocca da gli aiuti Perché non sa dove la mappa Sì No Non so Non conosco la mappa Non conosci la mappa Sì va bene Non te mica farmi fare un tour Non era di qua Scusate 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 siamo andati Allora Eh Enrico abbiamo già finito il tempo Guarda Ah Siamo già a due minuti Va bene Lui l'ha quasi trovato però Devi girare per di là Qua la retromarcia Ok Sopra le piante Piante Va bene Devo andare nella stazione di prima Quella è la blu Eh Ora che ci torno Eh Dall'altra parte del ponte Vai dove le rotaie Qua c'è il ponte Perché ci sono le rotaie sotto Quindi segui le rotaie Poi un po' E lo trovi Oh Le rotaie sono qua Ecco Sì Allora devo girare di qua Qua sono le rotaie Sì lo so Allora potrei qua Segui le rotaie E dovresti trovare il frugone Guarda che mancano 30 secondi Aiuto 30 secondi alla fine Va bene Tira che parte vuoi Non faremo neanche l'outro Non so se è di qua Sì Non è di qua Non è di qua Riky Ma dov'è Non lo so Mi sa che è finita la rec No 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 Non è finita la rec La rec Ma quello è un pick up Non è un pick up Sono le macchine Devi tornare Noo Devi tornare indietro Succede in mezzo secondi E Non abbiamo più tempo Yeah Faremo la stessa tecnica di prima Un altro video